Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per traffico intenso, coda e attratti tra Calenzano e B1 variante in direzione nord. Sempre in A1 segnaliamo incidente in entrata a Valdarno in direzione di Roma. Sono coinvolte tre automobili. Ci spostiamo in A11 per traffico, coda tra Prato oveste il bivio con la 1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Tutto verso Firenze. Infipilì coda in uscita a Scandicci provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidenti su Viale Ludovico Ariosto e Piazzale di Porta Prato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio! Grazie a tutti!